La Norma di Vincenzo Bellini ha aperto la cinquantesima edizione del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca, edizione speciale che festeggia mezzo secolo di rarità musicali, riscoperte e novità. Questa nuova produzione è diretta da Fabio Luisi, con regia di Nicola Rab, una visione senza tempo del capolavoro di Bellini. È molto importante per noi qui al Festival e anche per me personalmente come direttore musicale e direttore di questa produzione di presentare dopo decenni nuovamente Norma. Perché Norma? Perché si tratta probabilmente dell'apice del repertorio che molti chiamano belcantistico, in realtà non si chiama veramente così, ma del repertorio protoromantico, quindi dell'inizio del melodramma romantico italiano, che con Bellini e Donizzetti poi ci porterà a Verdi e all'evoluzione del linguaggio verdiano. Norma è l'apice di questo, vediamo che Bellini sta stretto in questi stilemi protoromantici e ci auguriamo, come lui probabilmente si augurò quando la scrisse, un linguaggio ancora più azzardato, ancora più innovativo, ancora più moderno, che però verrà più tardi dopo di lui. Sono felice di essere qui e vorrei ringraziare pubblicamente il maestro Sebastian Schwarz, che mi ha avuto fiducia in me e mi ha richiamato anche perché c'è stata questa premiazione che è molto importante sicuramente per me, ma penso anche importante per il festival, perché è la prima volta che danno un premio abbiati per scenografia e costume, e quindi è comunque un momento importante per il festival e anche per il mio lavoro. Allora ho fatto una scenografia, diciamo doppia, è lo stesso impianto di scenografia, che però contiene due spettacoli che sono la Norma e Aladino, ed è un grandissimo girevole con uno muro, che è una specie di onda, dove da una parte c'è Norma, che è un grande muro rosso con delle grandi spaccature, che sono le spaccature dell'anima di Norma, e poi dall'altra parte c'è Aladino, che è una grandissima biblioteca tutta bianca, tutta di scultura, e che all'interno svela i mondi che sono una parte, diciamo, del viaggio che fa Aladino. E quindi è una scenografia che può cambiare da uno spettacolo all'altro veramente in un'ora, molto velocemente, con un grande risparmio anche di tempo e di personale, che è quello che mi ha chiesto il festival. Allora, come per il giocatore, firmo le scenografie e i costumi. Allora, per Norma, diciamo che l'idea che lega tutti i personaggi è l'uso di un tessuto, che ha una luminosità sua, ed è tutto plissettato, perché mi sono ispirata a uno dei miei artisti preferiti, che è Fortuny, con delle grandi parrucche. Sono dei personaggi, in realtà, che potrebbero essere, diciamo, carino dall'antichità, ma potrebbero essere anche del futuro. Sono un po', diciamo, dei personaggi che potrebbero essere anche del futuro. E invece per Aladino sono dei personaggi sempre di fantasia, quindi abbastanza inventati, però presi molto dai quadri degli orientalisti che andavano a fare i primi viaggi, diciamo, nel Medio Oriente, perché mi sono ispirato un po', diciamo, all'impero ottomano, per soprattutto fare i personaggi che sono proprio quelli della lampada, dell'Aadino della storia, ecco. E quindi, insomma, sono anche questi dei costumi molto importanti, direi. Il tappeto rosso all'ingresso, una foto sotto il porticato, la seduta sotto il caldo cielo stellato di Martina Franca. Si è aperto così il sipario sulla cinquantesima edizione del festival, quest'anno inaugurato già nelle scorse settimane con una serie di iniziative che hanno accompagnato il pubblico in avvicinamento alla data della prima. Per la cinquantesima volta si ripete a Martina e si ricrea quello che è un'atmosfera unica garantita dal nostro festival della Valle d'Itria. Tre settimane dove Martina Franca e tutto il territorio diventano epicentro di un'attenzione del mondo culturale non solo italiano ma europeo. per quello che è ormai una delle manifestazioni di musica lirica estiva più note e apprezzate in tutta Europa. Siamo pronti ad accogliere un pubblico internazionale, eterogeneo, di melomani che troveranno declinate tutte le forme della musica lirica e sinfonica. Ma anche siamo pronti a creare curiosità nello spettatore magari distratto, occasionale che capita a Martina Franca e viene affascinato appunto da quest'area di festa che siamo riusciti a creare in tutto il territorio.